Decolla, dopo anni di incomprensioni e rinvii, il progetto per dotare le strutture immobiliari destinate all'affitto turistico di un marchio di qualità, un censimento degli immobili che permette di valutare correttamente gli standard di offerta di case, vacanze e B&B e di censire meglio il flusso turistico presente a Capodorlando. L'idea, presentata per la prima volta una ventina di anni fa da Carlos Vinci, adesso ha avuto un'accelerazione con la definizione di bando, schede degli immobili e percorso per l'inserimento di tutto il materiale sulla nuova app del Comune presente sugli smartphone accessibile a tutti i turisti. Regolamentare il censire gli immobili che risponderanno ai requisiti igienici e strutturali fondamentali per le destinazioni all'affitto turistico, creando un marchio di qualità per garantire al fruitore dell'appartamento la sicurezza di un ottimo rapporto qualità-prezzo e di interrompere definitivamente quegli affitti selvaggi che macchiano l'immagine della città. Il compito per il Comune è solo quello di far visionare ad alcuni tecnici qualificati tutti quegli appartamenti che i proprietari intendono affittare e di concedere il marchio di qualità secondo una classificazione data dalle caratteristiche dell'alloggio stesso. Bisogna dunque raccogliere i dati più significativi, metri quadri, posti letto, distanza dal mare, terrazza, posto macchina, possibilità di ospitare animali domestici. Di seguito il Comune si dovrà impegnare soltanto alla promozione del marchio di qualità e concedere quelle agevolazioni a quei cittadini che intenderanno inserire la propria casa in un nuovo circuito turistico. Le agenzie immobiliari di viaggio avrebbero così la possibilità di inserire queste nuove unità ricettive in appositi cataloghi o siti web offrendo agli operatori nazionali ed esteri del settore un nuovo prodotto facilmente commerciabile.